dati contenuti narrati se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile il mistero dei bambini direbiribo 00 capitolo 22 la sentivo dentro di me il battito era sempre più veloce poi il buio era come un videogioco dovevi superare i vari livelli per arrivare a quello finale sono in un posto buio mi ci ha portato giulia e vedo delle porte numerate così entro nella prima vidi me mia moglie e mia figlia in macchina verso la louisiana mia figlia non era contenta affatto non voleva trasferirsi poi entra nella seconda c'ero io che andava a dispezionare la casa entrai nel mio ufficio e vidi una soffitta ci entrai e trovai uno scatolone contenente un proiettore e quattro nastri li presi e andai in ufficio a guardarli e i video mostravano famiglie che prima erano felici e poi venivano ammazzate ma i bambini più piccoli non c'erano poi la terza ero a scuola di mia figlia e vidi disegni strani di mia figlia il suo comportamento nei confronti dei suoi compagni di classe fu molto strano chi è questa giulia e poi la quarta porta ero a casa di mario e parlavo di questi fatti e anche del fatto che prima vidi una bambina davanti alla mia macchina e diceva di chiamarsi giulia ma lui non mi credeva pensava che io fossi pazzo incazzato uscì di casa 5 6 7 8 9 10 ecco l'ultima porta mi spaventa però ci entro ormai sono ad un passo da recuperare la memoria completamente non posso fuggire adesso ad un certo punto la vidi che fissava il muro e improvvisamente ci fu tipo un proiettore dove fece vedere mia moglie che bussò ad una casa la conosco quella maledetta casa christian e guardando il proiettore amore ma c'è ester ma ti pare quella lavora dai fammi entrare li vidi entrare e lui iniziò a prenderla dai fianchi e la baciò la presi in braccia e andarono in camera da letto sara esci un attimo dalla stanza no papà ho detto esci la vidi uscire e chiusi la porta a chiave mi sedetti vicino a giulia mi guardò e mi fece un sorriso era tenera quella sera vabbè torniamo al proiettore entraron in camera e la fece stendere sul letto le parole che sentì mi spezzarono il cuore amore che ne dici se e intanto lui puntava il suo coso schifo che birichino ti accontento dai la vidi abbassarsi e gli sfilò i pantaloni ai boxer lui la prese dalla testa e vabbè immaginate che cosa stava succedendo oddio quanto sei dotata dai adesso fammi divertire la fece stendere e lei aprì velocemente le gambe e fecero sesso ma non il solito quello violento privo di passione privo di amore privo di cervello perché lei con una figlia un marito che l'aspettano a casa non si dovrebbe permettere a fare porconate in giro questa troia ora ho capito tutto non gliela farò passare liscia